Perché ci sono stretto e... Guarda! Vieni! Vieni! Spesso! Benissimo, bravo! Nuova quella, modello nuovo. Da che andiamo su, se vediamo... Blu, bella! Bella, c'è giù? Non l'ho mai vista! Io l'ho vista! Guarda, 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 guarda che motore che c'è... Guarda, 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 guarda che motore che c'è lì dentro! Guarda, guarda, guarda che motore che c'è lì dentro! Questa è mia! Questa è mia! Questa è rossa! Ma sto qui al marchio della Ferrari! Che è un'edicata. Stavigliata! 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 Questa è mia! pelo, porco, tu, perciò! Bella questa! Ma qua c'è la così, guarda! Guarda! Mi edito qua! il quattro anni oh mio quante e' un po' di urdo con il ragazzo, ho entrato e' un po' di urdo con il ragazzo, ho entrato e' un po' di urdo con il ragazzo 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 questo è l'ultimo modello di Ferrari questo è proprio l'ultimo modello oh che bestia Andrea vai lì, ti faccio la foto ok, fatta, grazie mi è portato a Marcellino, come è il pilota? no, no, no ma lo fai bene? sì, sì ma lo fai bene? ma lo fai bene la pagata? no, no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no fanno tutto vero non c'entro la sfilata chissà la prossima fredda facciamo la metà 32 quella nera 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40 46 ma che bello eh questa potrebbe essere quella di Roberto e di Marziano 46 47 48 ma che? ma che? ma che? ma che? ma che? che bella che è questa pure ma che? ma che bello? ma che bello? ma che bello? Grazie per la visione è quel colore che cambia con la luce questa è bianca questa è bianca ma c'entro che il cagnolino c'entro che il cagnolo c'entro che il cagnolo 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 cagnolo